beh ho eliminato un video perchè per aver fatto vedere una cosa che non volevo far vedere e a quanto passi tube drive sarebbe rimanere il joystick a destra e sinistra per rimanere in equilibrio ma io premo ma perchè non me lo fa premere mancano pochi secondi tempo scaduto sono terzo sbaglio il colore quello che adesso proprio facevi Mario non so perchè ma mi ricorda Mario Galaxy adesso karate ogni colpo nel segno ti fa guadagnare un punto ti aggiunge 10 punti prima vince premia per sferrare un pugno i pugni sono dolci ma hanno una portata limitata se il pugno va al segno guadagnare un punto premi X per sferrare un calcio i calci sono più lenti dei pugni ma hanno una portata maggiore se il calcio va al segno guadagnare un punto quando l'SP è pieno premi R per dare un supercolpo se va al segno guadagnare 5 punti a questo punto uso BAUSER ah con Y si atterra si fa due punti così è per bloccarlo mi hai atterrato ah volevo far voler atti io quel calcio no ha vinto Luigi ora lo rifaccio per un attimo voglio vedere solo com'è il supercolpo e che succede se si preme R ah si si preme R e si carica bene non lo so vabbè ho deciso di farlo alla fine perchè ho riperso di nuovo cioè ve lo farò vedere alla fine com'è quello di BAUSER adesso è il momento di badminton singolare però stavolta non voglio farlo solo singolare e basta premi A per servire mentre l'avversario spinge il volano ti puoi muovere con il joystick il tuo personaggio si muoverà automaticamente e ricevere se sei stranciato in mobile premi A mentre incline il joystick a sinistra per mandare il volano a sinistra premi A e inclini il joystick a destra per mandare il volano a destra premi A dal solito per mandare il volano a 100 con l'indicatore SP è pieno te hai premuto R e premi A per fare un super T non so se si chiama davvero joystick ma magari me lo direte voi dottor Eggman se va in alto c'è un cicchiorancione sarebbe da fare una scherciata e si fa un tiro potente se sembra senza cosa con A con su e giù si possono fare diversi no l'ho mancato super Tiro credo che se non premo A la pallina continua a stare in aria aia che vuol dire che allora si arriva a 5 perché io non lo sapevo anche perché non ho mai giocato al badminton no volevo provare a fregare a fregarla tirando in alto che vuol dire che